Il tempo è zerato, Branduzzi Sara su Starlet, mi pare avere mangiato un candelotto di dinamica anche lei Si parte qui da fronte tranquillamente le barriere, perfette, molto bene Gira molto bene e torna alla prima boa, altrettanto la seconda La porta in retromarcia, benissimo, direi che è molto brava anche Sara Entra nel 360, non sta forzando troppo ma il tempo ha decisamente ragione perché nessuna penalità è molto importante Il percorso netto ha fatto una discesa bellissima, altrettanto il ritorno devo dire Gira con una discreta distanza, così al margine di sicurezza Apre il cancello, siamo quasi a 50 secondi, lo chiude Vediamo se il cavallo la seconda in questo movimento, perfetto Sempre molto delicato questo passaggio Se non vorrei che scappare via, cambio dell'oggetto Molto brava Ultimo giro, il tempo potrebbe essere veramente incredibile E il tempo è veramente incredibile 1.09.52 Ed è un percorso netto